Approvato il bilancio 2021 delle farmacie comunali ad Erezzo, un anno particolare visto che è stato investito dalla emergenza sanitaria che ha cambiato anche la tipologia del servizio offerto alla cittadinanza. Il documento, si legge della nota, riassume il buon andamento economico e gestionale. Sono otto le farmacie che fanno capo direttamente all'azienda farmaceutica senza dimenticare il magazzino di via Sette Ponti. In pratica è stato garantito rafforzato il ruolo del presidio nella battaglia al covid-19. L'avvio dei nuovi servizi come la vaccinazione e l'adeguamento degli sportelli per i tamponi hanno fatto sì che le farmacie svolgessero un ruolo basilare sul fronte anche della nostra realtà comunale. L'utile di esercizio si è chiuso con oltre 500 mila euro di attivo. Il 20% tornerà al socio pubblico ovvero il comune di Erezzo che potrà reinvestire sul territorio questi proventi. Per il presidente Francesco Francini c'è un altro aspetto da evidenziare ovvero la parallela attenzione verso l'educazione alla salute. In questo caso l'impegno degli operatori è stato eccellente sotto tutti i profili. Il fatto che siano state attivate varie campagne solidali che hanno coinvolto enti come Calcit, Casa Tevenin, Autismo, Rezzo, Fossombroni, Avis, Frateres, Agazzi e All Stars conferma come la sinergia possa produrre risultati importanti.